Max bentornato, intanto primi giorni di lavoro anche per te dopo una lunga estate terminata sportivamente a Tokyo, io parto da qua, prima di parlare di Perugia ho visto anche un bel post, insomma una bella festa per celebrare la maglia numero 13 della nazionale una bellissima storia, quella con la nazionale finita quest'estate che cosa ti ha lasciato, che sensazioni ti ha lasciato? Sì, è stata una maglia che ho inseguito a lungo e che ho trovato poi, ho raggiunto un po' tardi forse però poi me la sono goduta, comunque i miei anni nazionali li ho fatti, mi sono tolte le mie soddisfazioni purtroppo ci è mancato sempre quell'ultimo step perché non siamo mai riusciti a portare a casa la medaglia d'oro ci siamo andati vicini in alcune circostanze, però evidentemente quello che abbiamo fatto non è bastato però mi porto dentro un po' tutto, le vittorie, le sconfitte, i viaggi, le emozioni l'inno davanti a tanta gente, purtroppo in queste Olimpiadi il pubblico non c'era ma abbiamo giocato tante volte in Italia, il mondiale, insomma l'inno è bellissimo 4-5 mila persone che cantano con te, è stato un bel viaggio però insomma 36 anni secondo me era giusto dire basta e me la sono goduta, me la sono goduta e quindi sono contento comunque di quello che ho fatto e ci mancherebbe altro, aggiungo io, un viaggio bellissimo che finisce, un altro viaggio che continua nuova tappa di questo viaggio, stagione 21-22 con Perugia campagna acquisti l'abbiamo vista, l'hai vista insieme a noi tu che squadra ti immagini e che stagione ti immagini? La squadra è sicuramente una squadra di alto livello i giocantori singolarmente sono fortissimi, abbiamo una rosa molto molto lunga e poi dobbiamo essere bravi noi insieme allo staff a far funzionare questi singoli farli funzionare insieme potremmo toglierci tante soddisfazioni sicuramente però ci sono rinforzati anche gli altri perché io sento parlare di Perugia ma in pochi parlano di Modena, non so perché pure Modena è una squadra fortissima o comunque forse non pochi ma si parla soprattutto di Perugia diciamo così ma anche Modena è una squadra fortissima, la Lube è lo stesso quindi ci sarà comunque da lottare e da soffrire anche in questa stagione ci saranno momenti di difficoltà però la squadra è forte, è forte, io sono naturalmente felicissimo della squadra che la società è riuscita ad allestire abbiamo un grande allenatore e niente le prime sensazioni naturalmente sono molto molto positive ma i primi giorni è sempre tutto bello, bellissimo bisogna essere bravi a mantenere questo entusiasmo nel corso dei mesi e niente, sarà un'altra bellissima stagione il campionato italiano è sempre bellissimo quindi è da un po' che non si vincono trofei importanti e quindi questo potrebbe essere l'anno giusto E un'ultima cosa, attendiamo l'arrivo di tutta la Rosa che arriverà come sempre da queste parti a Scaglioni anzi tu sei arrivato prima del solito rispetto alle ultime stagioni aspettiamo il completamento della Rosa per iniziare poi a lavorare tutti insieme Sì, arriveranno pian piano gli altri ragazzi c'è anche impegnato ancora con le nazionali ci sono gli europei naturalmente in questo momento si lavora soprattutto in salapesi si fa quel che si può con la palla perché anche oggi eravamo in cinque quindi si lavora un po' sulla tecnica individuale si può fare ben poco si ritocca il pallone, un po' di palleggio, di difesa alcune si iniziano a curare un po' alcune situazioni insomma ecco non vedo l'ora che arrivino gli altri in modo tale da poter come dicevo prima costruire la squadra per quanto riguarda i ragazzi impegnati con le nazionali ancora naturalmente spero che possano arrivare più in là e niente insomma ripeto lo aspettiamo intanto mettiamo benzina nelle gambe perché sarà un'altra stagione molto lunga